Nel corso dei quotidiani servizi finalizzati al contrasto della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti, svolto dagli uffici operativi della Questura Retusea, agenti della squadra mobile, coadiuvati da unità cinofile antidroga e anti-esplosivo di Catania, hanno arrestato un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell'ordine, per i reati di detenzione illegale e alterazione di armi e per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il 45enne, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso sia di oggetti qualificabili come armi da sparo, cosiddette artigianali, già realizzate o in corso di realizzazione, che di materiale chiaramente riferibile alla realizzazione e all'assemblaggio di simili manufatti, fra cui un trapano, delle punte per perforare i metalli, pezzi di leghe metalliche, tondini di metallo utilizzati come calibro e il relativo munizionamento, un grilletto con canna segata, ogive in piombo, bossoli, cartucce a salve e polvere da sparo. Tra gli oggetti qualificabili come armi da fuoco già realizzate, è stata rinvenuta una pistola-revolver originariamente a salve, modificata con sostituzione della canna originale in modo da consentire lo sparo di cartucce calibro 9, manufatto qualificabile come arma clandestina. Inoltre, nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni grammi di hashish. L'arrestato, al termine delle incombenze di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato portato nella casa circondariale di Siracusa.